Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video delle Milanissi del Web Oggi video di analisi, di recap su tutta la giornata di Serie A Lo so, c'è Genova, Parma, Torino, Sampdoria Le analizzeremo, faremo un'analisi pre-partita Invece post-partita e vorrei portarla come rubrica tutti i lunedì Su appunto le partite della domenica, del sabato della Serie A Partendo dalla prima, arrivando all'ultima Cosa importante, iscrivetevi al canale, lasciatela e condividetela Lo dico anche all'inizio, che magari vi dimenticate Allora, iniziamo dalla prima, mi pare fosse un... sì, proprio lei Lazio-Udinese, 1-3 La Lazio perde in casa contro un Udinese modesto, rimaneggiato Io l'ho vista la partita Ho visto una Lazio un po' troppo sicura di far risultato Non proprio la Lazio che conosciamo, nel senso la Lazio che non dà per scontato nulla La Lazio che attacca per 90 minuti, ci crede fino alla fine Ho visto una Lazio un po'... non lo so, un po'... ma sì dai Cioè nel senso una Lazio che non ha... non ha... non ha zannato l'avversario come fa di solito È un buon Udinese organizzato che ha tre punti importantissimi Poi andremo a vedere anche la classifica Vi dirò anche un top e un flop per le partite Top... forestieri che torna al gol dopo dieci anni, tipo Un flop stracoscia, non mi è parso invincibile Soprattutto dopo le ottime prestazioni di Pepe Reina in casa Lazio Milan-Fiorentina, vabbè c'è poco da dire Vi dico solo il top e il flop Top... top, top, top Ce ne sono veramente tanti Vi dico top Milan Senza Ibra, dunque un gran top Milan Flop... Difesa Fiorentina Difesa della Fiorentina La vedo troppo leggerina, leggerina Bologna-Crotone Il Bologna che dopo mi pare... non so quanti... forse anche un anno Torna a non subire gol contro un Crotone che... non lo so... ha anche dei buoni interpreti in fase offensiva Il problema è che manca un po' di lunghezza d'organico e anche dietro abbastanza ballerina A parte il portiere Kordaz che secondo me è un ottimo portiere Il problema del Crotone principalmente è che l'ha messo anche il presidente Non è riuscito a fare il mercato che voleva Purtroppo dovuto anche alla crisi che ha colpito le piccole squadre come il Crotone Che magari non hanno delle proprietà che spendono e espandono Che hanno la possibilità di allargare i propri orizzonti Come... come... che ne so... Suning, Agnelli Dunque ne soffrono molto Cagliari-Spezzi all'ho visto Ho visto il secondo tempo ed è quello che ha regalato più emozioni Con il recupero, no? Del... anzi la rimonta del Cagliari Che sembrava avere in pugno la partita Però non l'ha chiusa Non l'ha chiusa secondo me perché comunque lo Spezia era messo bene in campo E aveva le sue idee precise Poteva fare male al Cagliari E ha fatto male al Cagliari alla fine Perché comunque è un 2-2 Che è pesante Un punto pesante comunque per lo Spezia Che appunto rinforza la sua posizione Comunque fa punti da un paio di giornate a questa parte Già con l'Atalanta Adesso con Cagliari Comunque non è facile andare a Cagliari a fare punti Attenzione Un top e un flop Anzi faccio un top e un flop del Bologna Io premetto non l'ho vista questa partita Perché era in contemporanea col Milan Dunque non l'ho vista Non mi sento di dare un top e un flop Sinceramente non l'ho vista Ah invece di Cagliari-Spezzi Top italiano Che sta plasmando la squadra A sua immagine e somiglianza Già l'anno scorso Però il cambiamento è stato radicale da B.A. Dunque ci voleva anche un attimo Prendere le misure Mi ricordo il 5-1 preso con Sassuola all'inizio Dunque comunque lo Spezia le misure Le ha prese Si potrebbe salvare Sono una buona possibilità di salvare Vedo gente messa peggio di lei sinceramente E un flop Il Cagliari Che non ha saputo chiuderla E non ha avuto quella cattiveria Per andare Forse anche un po' con i suoi cambi Francesco l'ha condizionata Dunque dico i due allenatori Oh Napoli-Roma Allora partita che io ho apprezzato Ho visto E mi è pure piaciuta Una partita abbastanza Nel primo tempo Equilibrata Anche perché non c'erano sostanze Almeno nei primi 25 minuti Grandi occasioni Grandi cambi di ritmo E poi la punizione di Insignia Gran punizione In onore del Dio Di Diego Armando Maradona Che rimarrà sempre nel nostro cuore Grande Diego Che applauderei pure Applauderei 10 secondi Diego Armando Maradona Grande Diego Questo era un gesto che Non avevo preventivato Però parlandone Era giusto fermarsi 10 secondi E in passato 0-10 Perfetto 10 secondi In onore del grande Diego Allora Napoli Volente e Rosso Mi piace con il 4-3-3 E' molto equilibrato Più equilibrato Che col 4-2-3-1 Dove Se non fai una grande partita Centrocampo Sei sempre un po' in difficoltà E anche sui terzini Quello che aveva subito al Milan Poi con l'uomo in meno Ancora di più Si è voluto mettere col 4-3-3 Questa volta col Milan Era partito con un 4-2-3-1 Adesso è un po' più equilibrato La Roma Niente Non ha Non ha fatto tiri in porta Poche idee davanti Un po' troppi Si calpestavano Un po' troppo i piedi Non riuscivano a giocare bene In ampiezza E ha Secondo me condizionato Alla fine Poi Non lo so E La classifica Di serie A Allora A Allora Dov'è? 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 Ce l'ho Scusate che Si era tolto Dunque Vabbè Comunque una classifica Che mette il mio Milan Al primo posto E fino a qui Lo sappiamo L'Inter mi pare sia Seconda Purtroppo un telefono Che fa ribrezzo E settimana prossima Appena arriva Cambierò telefono Perché Non va bene Comunque un Milan Che è davanti Con 23 punti A seguire l'Inter E Appunto Il Sassuolo Se non sbaglio Sì ecco La classifica detta Milan 23 punti Ancora imbattuto L'unica imbattuta Perché la Roma Era stata abbattuta Ma a tavolino Io voglio sul campo La Roma ieri ha perso Dunque il Milan Rimane l'unica imbattuta Insieme all'Inter Che ha 18 punti Dunque ha ben 5 punti Dalla Dalla prima Che è il Milan Senza mai convincere A parte Contro il Sassuolo Il Sassuolo un po' in flessione A 18 punti La Juventus A 17 punti Ricordando i 3 punti A tavolino Sarebbe a 14 ora Se li venissero tolti A 17 C'è anche il Napoli Che risale Dopo uno stop Contro il Milan Risale a 17 A 17 c'è anche la Roma Che si ferma C'è il Verona a 15 Che ha battuto In casa l'Atalanta Non ne ho parlato Vabbè Non ne ho parlato Mi dispiace Ah sì C'era l'Atalanta Che perde clamorosamente Contro il Verona In casa Che Questa Atalanta È double face Però Ci sta Non si può pretendere Che l'Atalanta Faccia Ogni partita L'Atalanta Ecco Ci sta Con la riflessione Poi il Verona A squadra comunque Che ha avuto più tempo Per prepararla Anche se ha avuto La Coppa Italia Forse Non lo so È organizzata È molto organizzata Il Verona La Lazio a 14 Il Bologna a 12 Al decimo posto Undicesimo posto Cagliari Stasera c'è Sampdoria Torino Una bella sfida Secondo me la Samp Potrebbe vincere Secondo me il Torino Però deve dare una Mascossa Almeno emotiva Perché sta comunque Giocando tra virgolette Benino Però conclude poco Gli manca il Gallo Tornerà Benevento Al quindicesimo posto La Fiorentina Addirittura Al sedicesimo posto A meno 3 A più 3 Scusate Dal Torino Terzultimo Dunque la Fiorentina Che rischia tanto E poi vabbè Torino Crotone E le altre Bene Questo era il recap Iscrivetevi al canale Lasciate like Condividete il video Seguiteci su Instagram Commentate Io vi saluto Bella ragazzi